Ciao a tutti amici di Eximaddle.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing In questo agio andremo ad analizzare la tastiera da gaming di tipo meccanico e retroilluminati a Gamdias Hermes Partiamo subito dall'analisi della confezione Nella quale troviamo un'immagine illustrativa della tastiera Il logo dell'azienda, il modello della tastiera Alcune caratteristiche tecniche del prodotto Tra cui spiccano 512 kb di memoria integrata e 6 livelli di retroilluminazione Nel retro della confezione troviamo un'immagine illustrativa Che dovrebbe rappresentare il modello di questa tastiera, quindi Hermes Le specifiche e le caratteristiche tecniche del prodotto Anche nella parte inferiore e nella parte superiore della confezione troviamo le caratteristiche e le specifiche del prodotto stesso Precediamo dunque all'unboxing della tastiera Come possiamo vedere la confezione è abbastanza grande Quindi è un po' difficile mostrarvi l'intera confezione Ma questo non sarà un problema durante la recensione scritta sul nostro sito Dove vi mostreremo tutte le fotografie dettagliate della confezione e della tastiera Una volta estratta dalla confezione Troviamo la tastiera alloggiata in un'ulteriore scatola di cartone La tastiera, come possiamo vedere, è saldamente ancorata in questa confezione Procediamo un attimo ad estrarla Ok, ci siamo Scusate Ok La tastiera è praticamente ospitata in un'altra mini confezione Sostenuta da supporti in gomma Eccoci qui Spostiamo un po' tutto quanto Staviamo il bundle E vediamo da che cosa si compona La tastiera e tutto quanto è alloggiata in una busta di plastica adasparente Come possiamo vedere la cura per la protezione di questi prodotti è davvero notevole Ok, ci siamo quasi Scusate ancora Ok, dovremmo esserci Allora, comunque possiamo iniziare da un... Come abbiamo detto, il bundle si compone dunque di una guida all'installazione Un logo, anzi due logo, scusate, della Gambias che potremo applicare sul nostro case o ovunque vogliamo Un poggiapolsi in plastica con attacchi metallici a clip E la tastiera stessa Prima di procedere all'analisi della tastiera ricordiamo che questo poggiapolsi si attacca semplicemente Come possiamo vedere Magneticamente Inoltre, se lo giriamo di 180 gradi avremo la possibilità di coprire la tastiera Quando non dovremo utilizzarla Precediamo dunque all'analisi della tastiera stessa La tastiera ha un layout americano I switch che sono utilizzati sono The Cherry MX Blue È dotata di 13 tasti macro 5 tasti G più altri tasti M che potranno essere configurati tramite il software in dotazione Presente nel bundle stesso La tastiera ha una finitura opaca di colorazione nera I cavi sono due cavi USB placcati in oro E due jack da 3,5 mm sempre placcati in oro Ovviamente il cavo è rivestito in treccia di tessuto Come possiamo vedere Vi mostriamo anche lo switch Cherry MX Blue Che si cela sotto i tasti Dobbiamo utilizzare un piccolo cacciavite In quanto non abbiamo L'alkey extractor Come possiamo vedere I Cherry MX sono blu E al di sopra di questi è presente un led rosso Che sempre tramite il software di gestione della tastiera Avremo modo di personalizzare l'intensità dell'illuminazione su sei livelli La tastiera è davvero molto compatta Compatta e resistente e bella solida Abbiamo anche a scrivere Come possiamo vedere il classico rumore dei Cherry MX Blue Che sono dei switch meccanici di tipo cliccabile Il redetto della tastiera è presente il solito disegno e layout del logo della Gambias Sono presenti i due classici supporti piedini per rialzare la tastiera E quindi avere magari un maggiore comfort durante la digitazione Inoltre sono presenti i due mouse fit Che dovranno ancorare perfettamente la tastiera al piano di lavoro Inoltre la tastiera è dotata di un'ulteriore porta USB Come possiamo vedere l'interno è placato in oro E due ingressi per il jack, per il microfono e per le cuffie Dato che questi qui andranno o alla scheda video integrata O a quella dedicata E serviranno come adattatore e prolunghe Per ulteriori immagini e per la recensione scritta Vi rimandiamo sul nostro sito www.extimardure.com Un saluto a tutto lo staff